Due gare in un giorno, il programma delle discese di Coppa Europa Femminile a Santa Caterina Valfurva viene rispettato, grazie all'ottimo lavoro del team coordinato da Omar Galli in attività sulla pista Deborah Compagnoni, che ha visto 75 concorrenti presenti dietro al cancelletto di partenza nella prima gara e 73 nella seconda. L'Austria monopolizza il podio in entrambi i confronti, con il raddoppio sul gradino più alto della 21enne Elisa Grill, seguita da Nadine Fest. in ritardo nella prima gara di 51 centesimi e nella seconda di 7. Cristina Hager è terza nella prima discesa a 63 centesimi, mentre nella seconda è Sabrina Meyer a seguire Nadine Fest, con 94 centesimi di distacco da Elisa Grill, la quale subisce un infortunio sul parterre a seguito di una caduta dopo aver tagliato il secondo traguardo della giornata. Presso l'ospedale di Sondrio le diagnosticano la rottura della tibia e la veloce e giovane atleta austriaca, oggi in testa alla classifica generale e di specialità, vede sfumare l'opportunità di portare a casa la Coppa Europa, vista l'impossibilità di proseguire l'attività agonistica per questa stagione. Elena Dolman è l'italiana più veloce nelle due gare e conclude rispettivamente al settimo posto a un secondo e 25 centesimi e al tredicesimo a un secondo e 73. Greta Angelini nella prima prova e Carlotta De Leonardis nella seconda sono state le prime atlete premiate della classifica Under 18. Gli appuntamenti in agenda del circuito di Coppa Europa femminile sono ancora cinque. Il primo, con tre giganti in programma, è in Germania a Berthesgaden dal 13 al 15 febbraio e il prossimo in Italia è in Val di Fassa il 2 e 3 marzo dove si disputeranno due supergiganti.